Dalle prime ore dell'alba nella provincia di Torino, oltre a 60 carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del capoluogo su richiesta del gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana, della locale procura della Repubblica nei confronti di 13 italiani e un colombiano, ritenuti responsabili di concorso in traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, partita dalle nie condotta tra maggio e novembre 2020 dal militare della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale ha consentito di accertare la stabile esistenza, nell'Italant torinese, con base operativa nel quartiere Barriera Milano-Torino di un gruppo criminale dedito al rifornimento e al successivo smercio di hashish e marijuana e di documentare il particolare modus operandi utilizzato nell'attività illecita anche durante il periodo di lockdown consistente nella consegna di dose al domicilio degli acquirenti o in luoghi pubblici approfittando spesso di corrieri incensurati e di giovane età. Nel corso delle investigazioni, a risconto delle attività condotte, sono stati già restati in flagranza tre pusher, sequestrando complessivamente oltre 10 kg di hashish e oltre un chilo di marijuana.